Buonanotte. Ma cos'hai combinato? Sei sparito. Hai saputo che il padre di Wanda ha tentato di uccidere un medico? Un ginecologo. La mamma? Non sa niente. Che cosa le hai detto di me? Che eri andato a Roma. Sta male, eh? Dillo anche tu. Se devi andare a letto con qualcuna... Sta zitto. Dov'è? In che albergo l'hai portata? Se c'era una che non dovevi toccare... Devi stare zitto, capito? Come sei scontato. Sei sempre lo stesso Pagliaccio. Senti, Giovanni... Nella tua città... Dormi a casa tua. A Roma fai quello che vuoi. Tu non mi devi. Tu non sarai mai. Non sarai mai, adulto. Troppo tardi. Ma l'è vero. E non me lo devi dire tu. Adesso basta. E finisci da quei pugni in tasca. Sei patetico. Un burattino. Io non sono un burattino. Tu credi di sapere tutto e non sai un cazzo. Io odio i tipi come te. I positivisti, i razionalisti, i progressisti disincantati, gli scettici. Quelli che sorridono sempre, alzano le spalle, superiori a tutto e non rischiano mai la vita. Passano sui cadaveri col gelato in mano e poi con gli sguardi paralizzano la gente. Peggio. Dei preti e dei fascisti. Grazie.